Sam, ma che stai facendo? Hai spaventato Teodora! Io sono Super Samuel, l'invincibile! Mi sto allenando per salvare la principessa! Quale principessa? Come Super Mario, ma nella vita reale! Oh, Sio, perché ti devo spiegare tutto? Ehm, Super Mario nella vita reale? In realtà è fantastico! Stavo pensando a un nuovo labirinto per Teodora! Dai, facciamolo! Le mie idee sono sempre fantastiche! Ciao ragazzi, oggi faremo qualcosa di molto interessante per Teodora! Sammy, dove sei? Ciao! Indovina chi sono? Che cos'hai che non va? Che cosa? Non riconosci l'uomo con i baffi più famosi al mondo? Ehm, Albert Einstein? Charlie Chaplin? Ma no, Sio! È il personaggio del videogioco! Il primo al mondo! Se voi li avete indovinato, scriveteci nei commenti! Oh, ho capito! Mario! Esatto, esatto! Ehm, è difficile riconoscerlo con quei baffi! Ragazzi, guardate! Dobbiamo creare altre sei scatole di dimensioni diverse basandoci su questo modello! E poi, metterle insieme con cura! Così, facile! Ecco tutti i pezzi! Per adesso sono soltanto semplici pezzi di cartone, ma molto presto... Sio, sapevi che i piatti preferiti di Mario sono la pizza e gli spaghetti? Che strana scelta! Aspetta! Vorresti dire che non ti piacciono pizza e spaghetti? Beh! Wow, che cos'è questo? Blocchi e piattaforme su cui Mario potrà saltare! Ah, vedo! Ma penso che manchi qualcosa! E che potrebbe essere? Attenzione, un momento di magia! Wow! Ta-da! Tutti voi sapete che dovete fare attenzione con il taglierino, vero? Io sì! Ecco perché ti guardo così, non ti fai male! Oh, ma grazie, Sammy! Sei sempre così premuroso! Sto già molto meglio! Fatto! Adesso dobbiamo realizzare altri blocchi di diverse dimensioni! Io ne ho già preparati due! Sam, guarda! Ah, scusa, non posso! È appena successo qualcosa! Sammy, Sammy, gli succede sempre qualcosa! Ma non posso fermarmi adesso perché dobbiamo fare un sacco di cose! E lo sfondo è pronto! Dobbiamo soltanto aggiungere del colore ai blocchi! In questo modo, vedi? Ragazzi, ricordate di proteggere la zona in cui lavorate mentre usate la vernice spray! Ma che brillantezza! Sei felice, Sammy? Sammy, è il tuo momento preferito? Oh, Sammy, che cosa è successo? Che è successo? I miei baffi hanno fatto una brutta fine! Volevo ripararli con la colla! Indovina un po'? Sono rimasti incollati per sempre! Ma fammi vedere! Fa male! Dobbiamo fare qualcosa! Dai che può essere che un giorno si sistemerà tutto da solo! Molto divertente, mia cara Susie! Ops, sembra che Sam sia arrabbiato! Devo proprio tirarlo su di morale! Ragazzi, avete qualche idea? Scrivete i vostri suggerimenti nei commenti! Il mio senso artistico mi sta dicendo che è tempo di usare della normale vernice! E come al solito, il tuo senso ha ragione, giusto? Wow, è fantastico! Voglio farlo anch'io! Certo, Sammy! Qualsiasi cosa per farti tirare su di morale! Ma io non sono mai stata, Giù! Bene, e adesso mentre Sam lavora con la vernice, io finirò di disegnare con il pennarello! Sì! Sì! Ci eravamo scordati del tubo! Non preoccuparti, Sam, è tutto sotto controllo! Il nostro tubo è quasi pronto! Susie, posso colorarlo! Ma certo, Sammy! Che colore scegli? Verde brillante! Perfetto! Ecco qui! Sarà fatto in un secondo! Intanto io comincio a fare il labirinto! Ogni blocco ha un suo posto! Dobbiamo far sì che il labirinto si possa percorrere! Altrimenti a che servirebbe? Ragazzi, vi piace giocare con i labirinti? Se è così, dateci un pollice in su! Non dimentichiamoci delle scale! Ecco qui! Perfetto! Inoltre non dimentichiamoci dei tubi! Ottimo lavoro, Sammy! Attacchiamoli ai loro posti! Oh, e stavo quasi per dimenticarmi! Ho un compito speciale per te! Oh, interessante! Puoi farlo mentre io assemblo le parti laterali del labirinto! Ma, Samuel! Ops! Susie, Susie, guarda che cosa ho creato! Il compito è quasi completato, sì sì! E gli involucri fanno parte del compito? Sì, lo chiamo... Il regno dell'involucro delle caramelle di Super Mario! Vogliamo che è meglio e facciamo un normale labirinto! Va bene! Ogni labirinto deve avere dei muri, altrimenti che ce ne facciamo? In questo modo! Avere delle pareti significa che ci sono un'entrata e un'uscita, altrimenti che ce ne facciamo? Sammy! Ok, dammi qui! Servono un'entrata... ...e un'uscita! I prossimi pezzi sono super importanti! E sono dei fissatori magnetici per il labirinto! Ce ne servono quattro! Vanno in alto... ...e in basso! Wow, fantastico! Abbiamo quasi creato il gioco Super Mario nella vita reale! Susie, ma dove è andata? Sammy? Oh, sparisce sempre quando ho bisogno di lui! Susie! Sam, sono qui! Ti ho cercata dappertutto! Ascolta, non ci crederai! Mario aveva i baffi solo perché aveva una bocca brutta nel gioco! Oh, quindi non c'era bisogno di fare tutto quel casino? Ragazzi, conoscete altri fatti interessanti sul gioco di Super Mario? Diteci nei commenti! Abbiamo creato dei buchi con il trapano per far entrare dell'aria all'interno per Teodora! Finito! Sono così felice del lavoro che abbiamo fatto! Adesso è finito! Oh, Siu! È fantastico! Adesso sono proprio Mario! Ma dov'è andata di nuovo? Uffa! Io non vedo l'ora! Uno, due, tre! Woohoo! Avanti, Teodora! Vai! Oh, guarda! Ha trovato il tubo! Ma ha fatto bene a lasciarlo perdere! Dai, Teodora, forza! Sì! E ora ti metti a sistemare! Ma che fai, Teodora? Devi andare al castello! Forza! Andiamo, amica mia! Puoi farcela! Ho fiducia in te! Forza! Teodora! 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 Mi sembra di giocare al videogioco! Ma questo è molto più figo! Sono d'accordo con te! Sembra che piaccia anche a lei! Guardala! C'è quasi! Forza, forza! Teodora! Teodora! Woohoo! Sì! Molto bene! Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale e dateci un pollice in su! Sam, mi sembri contento! Sammy? Sì, dateci un pollice in su! A presto! Aiuto! Ciao! Autore dei sorrisi